Sì, tutto è iniziato 5 anni fa, quando abbiamo fatto una serie di interviste a diversi registi, appunto perché avevamo l'idea di girare un film con una parte comunque anche legata al documentario, sulla nostra esperienza sul Silk Road Ensemble e in particolar modo l'idea era anche di inserire una parte relativa a un concerto live della nostra band. Durante queste interviste il regista che poi ha girato il film che abbiamo visto appunto è uscito dalla sala ed era stato quindi molto colpito dalla nostra esperienza e soprattutto dalla potenza, dall'importanza dei valori che volevamo esprimere e comunque trasmettere. Per questo da qui appunto la sua idea di girare un vero e proprio documentario sul nostro ensamble. Io ho sempre cercato di capire come mi fito in il mondo, che credo sia qualcosa che ho condivido con 7 milioni di altre persone. Dopo che ho lasciato in Siria ho ho trovato migliorando delle emocioni molto più complesse, come come una cosa di musica stoppa un pollo. Il documentario è in pratica molto legato al Silk Road Project. Il nostro ensamble è comunque una band molto ampia perché di cui fanno parte ben 60 elementi provenienti da diverse parti del mondo mentre invece il documentario è incentrato soprattutto su cinque protagonisti, tra cui anche naturalmente il fondatore Yo-Yo Ma. Quindi sì, effettivamente è una sintesi, è un po' il punto di vista, quello che il regista appunto ha voluto raccontare ma sicuramente lo rappresenta l'esperienza di tutti i componenti di questo ensemble. Diciamo che è stato molto bello collaborare e lavorare con Morgan in quanto in tutti i sensi è stato un elemento in più del nostro ensemble, come un familiare in qualche modo è entrato a far parte della nostra grande famiglia, ci ha seguiti per circa cinque anni filmando con la sua telecamera, facendo riprese, ma noi alla fine non ce ne rendevamo neanche più conto. Per quanto riguarda la Galizia ha voluto rappresentare gli aspetti conflittuali della mia regione a livello nazionale e individuale e si è concentrato molto sull'aspetto dell'identità culturale, quindi l'importanza della lingua galiziana e dello strumento nazionale appunto che è la gaita, la corna musa. Infine si è concentrato anche sull'importanza dello strumento come simbolo dell'identità culturale ma non politica, quindi non ha sottolineato l'aspetto politico ma quello culturale e legato comunque al popolo, quindi uno strumento popolare. Non parliamo il perfetto inglese o il perfetto chino o il perfetto persiano, ma parliamo il perfetto linguaggio perfetto. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!